Il cantiere è su da diversi giorni alla darsena borghese e il messaggio dell'assessore Christian Fanesi sulla nuova circolazione pedonale in quell'area era stato molto chiaro. Non si può fare diversamente, diceva, dobbiamo spostare il passaggio a monte. Ma ahimè non aveva fatto i conti con l'inveterata difficoltà di alcuni a cambiare abitudine, anche a costo della propria incolumità. Pedoni, biciclette contromano, in questi giorni si è visto di tutto, con gravi rischi e soprattutto nelle ore di punta. Ecco, vedete, quello che sto facendo io in questo momento è quello che assolutamente da parte di un pedone non va affatto camminare qui a bordo della carreggiata. Come vedete, le macchine stanno sfrecciando al mio fianco. È una situazione veramente pericolosa. C'è un altro percorso da fare per i pedoni. Questo è il percorso in sicurezza da effettuare. Vedete, c'è l'indicazione, c'è il cartello, qui davanti ci sono le strisce pedonali e adesso naturalmente andiamo dall'altra parte, quindi anziché passare vicino alle transenne, io insomma in sicurezza attraverso la strada e mi porto dalla parte opposta, quindi non lato mare ma lato monte. Qui c'è un altro passaggio pedonale, vedete, sto attraversando in sicurezza, non ho niente attorno a me che mi crea pericolo e anche qui ci sono indicati dei cartelli che indicano la direzione Lido e la direzione centro e questo è il percorso giusto da fare in totale sicurezza. I lavori stanno andando benissimo, per questo ci dà un certo sollievo perché finiremo nei tempi che avevamo sempre indicato, quindi a breve potremo anche inaugurare questa nuova passeggiata, ma evidentemente se si fa il pavimento ad Arsena Borghese che è l'unico passaggio, lato mare tra il centro storico e il Lido di Fano non si può passare sopra, è impossibile perché stanno rifacendo i cordoli, poi faremo la gettata del pavimento, quindi è impossibile passare. Mi dispiace molto perché è l'unico collegamento che c'è tra centro e Lido, però non si può fare altrimenti, quindi chiediamo, facciamo un appello anche attraverso i vostri microfoni affinché la gente usi il percorso che abbiamo indicato, segnalato in maniera evidente. È un po' più lungo, però è sicuro.